Questo weekend ho giocato ad Empoli, campionati italiani rapide Blitz, che consistevano in tre tornei, uno venerdì, uno sabato e uno domenica. Il primo torneo, quello di venerdì, era il campionato italiano Blitz, quindi si giocava a una cadenza di 3 minuti più 2 secondi ogni mossa. Sabato e domenica invece c'erano i due tornei rapidi, il primo con una cadenza di 25 più 10 e il secondo con una cadenza di 12 più 3. Sono particolarmente felice per l'evento in sé, ho conosciuto una marea di voi iscritti al canale, è successo più volte che mentre andavo in bagno e uscivo mi ritrovavo persone che mi dicevano Ah ma tu sei quello che fai video su YouTube, complimenti mi stai aiutando a migliorare, questa cosa mi ha veramente dato una carica infinita. Passando invece al torneo, partendo dal torneo Blitz, vi racconto un po' come è andata. Nel torneo Blitz non ho iniziato nel migliore dei modi, nelle prime partite ho fatto un po' fatica ad ingranare, soprattutto era molto strano dopo aver giocato molto online a 3 minuti più 2 secondi giocare dal vivo alla stessa cadenza, cioè è molto molto diverso. Insomma non mi sono trovato, poi verso la fine del torneo ho recuperato la grande e quindi alla fine se devo fare un riassunto è stato un torneo che non è andato né bene né male, insomma ho fatto un po' il mio, forse un pochino peggio però nulla di grave. Sabato invece è stato veramente un disastro, si giocava 25 minuti più 10 secondi ogni mossa che è una via di mezzo tra il tempo lungo e il tempo rapido, non sono riuscito a gestire bene il tempo, la mattina me la sono cavata piuttosto bene, abbiamo però giocato solamente due partite e il pomeriggio poi altre 5. Il pomeriggio devo dire che ero piuttosto stanco e soprattutto dopo aver perso due partite di fila, cioè ero completamente a terra ed è stato molto difficile risollevarsi, quindi sabato è stato veramente un disastro. Domenica però mi sono svegliato con tutta un'altra mentalità e soprattutto avevo tanta voglia di rifarmi perché non mi riuscivo più a riconoscere soprattutto per il torneo di sabato e quindi volevo tornare a vincere. 12 minuti più 3 secondi è il tempo che preferisco in generale anche perché la maggior parte dei tornei semilampo hanno quella cadenza quindi ci sono un pochino più abituato e devo dire che è andata veramente alla grande. Perché non solo sono arrivato decimo assoluto in tutta Italia ma ho anche vinto il premio come campione italiano nella categoria dei maestri. La mattina sono partito alla grande su 4 partite giocate, ho ottenuto 3 punti con 2 vittorie e 2 pareggi, ho battuto dei maestri fide e soprattutto ho pareggiato con il giovane maestro internazionale Edoardo Di Benedetto che poi alla fine è arrivato terzo assoluto. Quindi super soddisfatto anche del gioco che ho portato in queste partite che mi hanno dato anche la carica per il pomeriggio. Al quinto turno quindi il primo del pomeriggio ho pareggiato con un maestro fide e al sesto turno è arrivata la prima sconfitta del torneo contro un forte maestro internazionale si chiama Castaldo, ha vinto meritatamente e quindi ci sta una sconfitta. Dopo ho vinto due partite di fila battendo dei candidati maestri e arrivo all'ultimo turno. All'ultimo turno gioco contro Nicolas Perossa nato nel 2009 maestro fide che nel recente campionato del mondo giovanile under 14 ha ottenuto un terzo posto quindi sicuramente uno dei talenti italiani più promettenti. Gioco con il bianco e questa sarà la partita che vi mostrerò in questo video, non vi faccio nessun tipo di spoiler e iniziamo subito con l'analisi di questa partita. Gioco pedone 4, il mio avversario gioca la difesa francese e qui devo un attimino scegliere tra le varianti che conosco quale giocare. Quella con cui mi trovo meglio in generale è cavallo c3 anche se recentemente sto valutando anche la variante di cambio. In questa partita però ho deciso di prendere spazio quindi gioco con e5 e qua siamo in teoria cavallo c6, cavallo f3, donna b6, gioco con alfiere d3. Che non è un pedone in presa, cioè il nero non può mai veramente catturare questo pedone perché dopo donna per d4 alfiere b5 scacco andrebbe a guadagnare la regina del nero. Comunque su alfiere d3 il mio avversario gioca alfiere d7 e qui decido di catturare in c5. Alfiere per c5, l'idea del bianco dopo la cattura in c5 è spesso quella di giocare con b4 e poi giocare sulla casella in d4 forte che i pedoni del nero non potranno più attaccare perché il pedone c non è più presente, il pedone e è bloccato dal pedone in e5. Qui devo però prima difendere il pedone in f2 quindi gioco a rocco e immediatamente dopo vorrò spingere il pedone in b4. Quindi qui il nero me lo impedisce spingendo il proprio pedone in a5. Sviluppo il cavallo, molto spesso il cavallo da d2 è diretto in b3 attaccando l'alfiere per poi saltare in d4, proprio la casella forte di cui vi ho parlato prima e qui il mio avversario gioca con donna a7. Una mossa utile per dare la via di fuga all'alfiere in b6 in modo tale che su cavallo b3 l'alfiere possa rimanere su questa diagonale a infastidire anche il pedone in f2 quindi a rendere più difficile lo sviluppo della torre che ora in f1. Gioco con pedone c4, questa credo sia una novità teorica e l'idea è aprire il centro della scacchiera sfruttando il fatto che il re del nero è ancora lontano due mosse dall'arrocco. Il nero deve infatti sviluppare il cavallo che gli costa un tempo e poi arroccare il secondo tempo. Nel frattempo voglio creare problemi al centro della scacchiera, aprire le colonne centrali e creare qualche grattacapo al re del nero. Ovviamente l'arrocco lungo sarebbe troppo pericoloso anche perché si sta per aprire la colonna c e qui il nero deve prendere una decisione cosa fare con il proprio centro. Su d per c4 il bianco gioca semplicemente cavallo per c4 e molto presto un cavallo atterrerà in d6 magari il nero sarà costretto a dare l'alfiere campo scuro e a quel punto gli alfieri del bianco potranno attivarsi e giocare alla grande dato che la posizione è comunque aperta. Il nero quindi potrebbe giocare pedone d4 dopo pedone c4 quindi spingere e tenere chiuso il centro. A quel punto però il mio cavallo può sfruttare la casella in e4, vado ad attaccare l'alfiere in c5 e quando quest'alfiere si ritira posso giocare con l'alfiere f4. Una mossa utile per sostenere la casella in d6 e poi giocare proprio con cavallo di 6 scacco. Come prima il nero sarà costretto a dare l'alfiere per evitare di perdere l'arrocco ma a quel punto la coppia degli alfieri del bianco sarebbe eccezionale. In partita quindi dopo pedone c4 il mio avversario gioca con cavallo b4, attacca l'alfiere in d3 e sulla cattura in d5 il cavallo sarà pronto a ricatturare. A quel punto sarebbe posizionato in un ottimo avamposto centrale e i pedoni del bianco non potrebbero più attaccare questa casella proprio perché il pedone e è già stato spinto troppo e il pedone c è sparito visto che ha catturato in d5. A questo punto salvo l'alfiere lo metto in b1 e molto spesso con pedone a3 potrò ricacciare il cavallo indietro e qua il mio avversario va a catturare in c4 prima che io possa proprio allontanare il cavallo e poi catturare in d5. Lì sarebbe un disastro per il nero perché il centro inizierebbe ad aprirsi e poi per d5 qua ci sarebbe un pedone isolato. Quindi va a catturare in c4. A questo punto potevo catturare in c4 ma mi dava un po' fastidio alfiere b5. Questa inchiodatura tra cavallo e torre, il nero a volte può giocare anche con donna a6 rinforzando questo attacco, insomma non mi era chiara la situazione. Quindi ho pensato di passare dai 4 che tra l'altro va ad attaccare all'alfiere in c5. In entrambe queste caselle il cavallo va ad attaccare la casella in d6 ma da qua attaccando anche l'alfiere velocizzo un po' di più il gioco. A questo punto su qualcosa come alfiere 7 potevo giocare alfiere 3. Attacco la regina in a7 che si sposta e poi gioco con alfiere c5. Vado a scambiare gli alfieri camposcuro perché questo alfiere del nero è il suo pezzo più importante e va a difendere la casella debole in d6. Dopo il cambio di questi alfieri la regina è sotto attacco, deve spostarsi dando un occhio all'alfiere in d7 che ora attaccato da cavallo e regina. Su donna c6 semplicemente me ne torno indietro e potrò sfruttare la casella in d6 con il mio cavallo. Ricordatevi che l'alfiere da lontano sta difendendo il cavallo in e4 quindi la regina non può mai catturare. Tornando quindi alla partita dopo cavallo e4 il mio avversario ha giocato con cavallo d5 tappando la colonna d e centralizzando il proprio cavallo. Su cavallo per c5, donna per c5 è vero ho guadagnato la coppia degli alfieri però allo stesso tempo il nero ha un pedone in più che potrà difendere molto comodamente con pedone b5 e il cavallo del nero non è niente male. Quindi la posizione del nero sarebbe comunque senza grossi problemi. Di conseguenza in partita io mi invento cavallo d2. Quindi voglio portare intanto un pezzo all'attacco del pedone in c4 che è il pedone che ho di meno. Quindi voglio quantomeno cercare di recuperare il pedone. Una volta che cade c4 i due cavalli punteranno alla casella in d6 e quindi un solo difensore per il nero non basterebbe più. Inoltre l'altra minaccia è la cattura dell'alfiere in c5 per poi saltare in e4, attaccare la regina e saltare in d6 con scacco. Il nero andrebbe a perdere l'arrocco. Infatti ora difendere il pedone con b5 non funzionerebbe proprio per questa variante. Cavallo e4, attacco la regina, mi sto per infiltrare in d6 e il nero ha dei problemi. Anche se ha il pedone in più non basta, il controgioco del bianco è troppo forte. In partita il mio avversario ha giocato con alfiere b5 ma qui l'unica mossa che mantiene il gioco equilibrato per il nero è f5. Che sinceramente non avevo neanche considerato perché è un po' strana come mossa, è un po' insolita. E l'idea del nero è sviluppare i propri pezzi molto velocemente per arroccare corto. Dando anche indietro il pedone di più che infatti il bianco va a catturarsi e qui il nero mantiene la parità con una linea completamente fuori di testa. Va prima a catturare il cavalline 4 che ora sta attaccando l'alfiere in c5. Quindi il nero vuole mantenere la coppia degli alfieri. Dopo alfiere per e4 il bianco sta attaccando il pedone in d5 ma il nero se ne frega e arrocca corto. Creando controgioco sul pedone in f2. Il bianco va a catturare in d5 e se il nero ricattura da una per d5 sarebbe scacco e cadrebbe l'alfiere in d7. Quindi qua il nero deve giocare torre per f2, dopo torre per f2, alfiere per f2, scacco, re h1. Il nero continua a non poter mangiare l'alfiere in d5 perché dopo da una per d5 scacco, cadrebbe l'alfiere in d7. E qui l'unica mossa che ha il nero per recuperare il pezzo di meno e portare la partita in parità è donna a6. Che secondo me è una mossa introvabile soprattutto pensando di doverla trovare quando giochi pedone f5. La questione è che ora minaccio di catturare perché dopo da una per d5 scacco ad esempio ho alfiere e6. La donna difende l'alfiere e soprattutto quando quest'alfiere cerca di salvarsi cade il cavallo in c4. Quindi ok, una linea completamente folle, in partita dopo cavallo d2 il nero gioca con alfiere b5. Che è già un errore perché qua posso catturare in c5, giocare cavallo e4 e infiltrarmi in d6. A questo punto la regina è sotto attacco e deve continuare a difendere l'alfiere altrimenti dopo lo scacco vado pure a mangiare il pezzo. Il mio avversario gioca a donna c6, mi infiltro con scacco. Il re va in f8, deve continuare a difendere il pedone in f7 altrimenti catturo e poi cade anche la torre in h8. Re f8 e adesso minaccio matto in una mossa, gioco con donna f3, minaccio donna per f7, scacco. A questo punto il mio avversario gioca con pedone f5 e arriva il bellissimo sacrificio di alfiere per aprire la posizione del re. Piccola parentesi prima di proseguire con la partita qua. F6 poteva essere interessante, io in partita stavo un attimino pensando a cosa giocare. Al computer piace molto alfiere e4, inchiodando il cavallo in d5 e su qualcosa come cavallo g7 per proseguire con lo sviluppo il bianco può giocare con donna h5. Minacciamo il matto in f7 e su pedone g6 la casella in h6 è scoperta, la regina del bianco può infiltrarsi e dopo re g8 mossa unica possiamo catturare in f6. C'è la minaccia di donna g7 matto e soprattutto il cavallo del nero non può catturare perché è inchiodato sulla donna in c6. Quindi questa è l'idea del computer, giocare con alfiere e4 e dopo il nero non si muove più. Per informazione in questa posizione la valutazione del computer è più 3.7, quindi il bianco ha posizione completamente vinta. Su pedone f5 la valutazione è più 3.9 con alfiere per f5. Quindi qua sto vincendo, sacrifico l'alfiere e per f5, donna per f5 scacco e il nero ha dei problemi. Se il re scappi in e7 posso proseguire con donna f7 scacco, il re si sposta, donna f8 e come minimo cade la torre in a8. Il re del nero continua ad essere parecchio in pericolo, questa torre è incastrata, il cavallo è inchiodato, a volte può arrivare cavallo f7 per catturare questa torre. Ci sono un sacco di scacchi super pericolosi nell'aria e quindi qua la posizione del bianco sarebbe completamente vinta. In partita il mio avversario qua gioca con cavallo gf6, su cui io proseguo con cavallo per b5. A questo punto mangio l'alfiere e appena il nero va a catturare in b5 vado a catturare in f6, quindi qualcosa del genere. Cavallo per f6 non è possibile perché cadrebbe la regina e su g per f6 anche l'alfiere prende parte all'attacco. E poi con il pezzo recuperato, pezzo sacrificato, la posizione sarebbe completamente vinta per il bianco. Il nero non avrebbe nemmeno più il vantaggio di materiale, quindi è stato un sacrificio momentaneo perché già qui ho recuperato il pezzo. Il mio avversario gioca con cavallo e7, attacca la donna, io la sposto mantenendo l'inchiodatura in modo tale che su donna per b5 io possa catturare in f6. E qua mi gioca con cavallo g6, quindi posizione completamente vinta per il momento per il bianco. E qui penso, intanto essendo una partita rapida iniziamo ad avere entrambi poco tempo e valuto donna g5. Che è molto interessante perché continua ad attaccare il cavallo in f6 e soprattutto su donna per b5 questa mossa è possibile perché la regina è difesa dall'alfiere. E in partita ho calcolato questa linea, donna per b5, e per f6, donna per g5, catturo, prese in f6, alfiere per f6. Ed entro in questa posizione dove ho un pedone di più, gioco facile, ho l'alfiere che è più forte del cavallo e quindi ho una posizione che tecnicamente si può vincere senza troppi problemi. Però è anche vero che il re in f8 non ha preso matto e la posizione che avevo prima mi sembrava ancora più schiacciante. Di conseguenza ho evitato donna g5, inizio ad avere poco tempo e dico va bene, allora manteniamo l'inchiodatura sul cavallo in f6 e quindi gioco donna f5. Che precedentemente, mentre calcolavo, ho visto che non andava bene, poi però me ne sono dimenticato, mi sono dimenticato del motivo per cui donna f5 non andava bene. Sarà successo sicuramente anche a qualcuno di voi e qui il problema di questa mossa è che dopo donna per b5, rispetto a donna g5, l'alfiere ora non difende la donna in questa casella e quindi non posso mangiare il cavallo perché semplicemente il pedone è inchiodato. Quindi così facendo ho semplicemente lasciato un pezzo in presa, mandando praticamente all'aria la partita. Qui la mossa corretta che è anche quella che ha visto il mio avversario che mi ha spiegato dopo la partita è donna d4, quindi sposto la donna dall'attacco del cavallo e vado ad aiutare il pedone alla cattura del cavallo in f6 e poi del pedone in g7. Qui la partita poteva proseguire con donna per b5, cattura in f6, re f7, mossa unica altrimenti se entro con la donna e poi con l'alfiere è un disastro. Re f7, cattura in g7, la torre si sposta, o donna g4 e questa posizione qui per il bianco è decisiva. Tra l'altro con un piano molto istruttivo, pedone a4 che attacca la regina ma l'idea è alzare la torre sulla terza traversa per poi posizionarsi o in f3 o in g3 o in h3 e questa torre supporterà l'attacco che già vede coinvolti regina e alfiere. Quindi il re del nero sarebbe troppo esposto e soprattutto il bianco ha comunque un pedone di più. In partita però gioco donna f5 e dopo donna per b5 ho perso il pezzo. C'è però da dire che la posizione era talmente vinta che anche con il pezzo di meno continua ad avere un attacco promettente. Quindi qua vado a difendere il pedone con torre 1, il mio avversario lo attacca nuovamente e qua gioco con alfiere h6. Che è un'idea che avevo già in mente anche precedentemente con l'idea di intanto minacciare donna per f6 visto che il pedone non potrebbe ricatturare che è inchiodato grazie all'alfiere in h6. E sulla cattura dell'alfiere posso catturare in f6 con scacco. Qui il nero ha solo una mossa per mantenere il vantaggio ed è donna c6. Con l'idea che adesso quando io vado a catturare in f6 il nero sì che può mangiare l'alfiere e la colonna f è rimasta chiusa. Poi qua la posizione è molto complessa però a quanto pare dopo torre per e8 scacco e re per e8 il nero non ha problemi. Donna per e8 già non va bene perché il bianco entra all'attacco con la torre e per il nero sono guai. Ad esempio su cavallo e5 in particolare il problema del nero è che questa torre non riesce ad entrare in gioco ma su cavallo e5 posso giocare con torre d4. E quando il cavallo si sposta per minacciare matto del corridoio con la donna posso giocare torre e4 e qui l'attacco del bianco è travolgente. Ad esempio su donna f7 arriva già matto con donna c8. Il nero deve sacrificare per forza la regina e dopo donna per e8 abbiamo scacco matto. Quindi la posizione del nero qua è critica. In partita il mio avversario non trova donna c6 che effettivamente è una mossa molto difficile da trovare soprattutto con poco tempo. Il mio avversario cattura l'alfiere io mangio il cavallo in f6 e a quanto pare secondo il computer sono tornato in vantaggio. Adesso il vantaggio è di più 1 che poi è sempre facile guardare la valutazione del computer dopo la partita però quando sei lì con poco tempo non è affatto facile capire cosa sta succedendo veramente perché hai appena lasciato un pezzo in presa. È vero è un attacco interessante però stai comunque attaccando praticamente solo con la regina e non è chiaro come riuscirai a dare scacco matto. Quindi la posizione è molto confusa il mio avversario giocare a g8 e io porto in gioco anche l'altra torre. Sicuramente percepivo l'iniziativa che avevo e non mi davo per perso perché comunque l'attacco qua c'è. Donna b4 quindi il mio avversario lega la mia torre che non potrà entrare in settima perché cadrebbe la torre in e1 con scacco matto. E qui gioco con torre e4 che è l'errore che porta di nuovo in vantaggio il nero. Qui la mossa corretta sarebbe stata pedone e6 con la minaccia di donna f7 matto io temevo in partita donna e7 però a quanto pare dopo donna f3 sto mantenendo insomma tutti i miei pezzi attivi e sto minacciando di entrare in d7 con la torre. Su torre d8 posso catturare dopo donna per d8 arriva il matto in f7. Quindi questo era il modo corretto di giocare per mantenere il vantaggio dopo torre e4 con l'idea magari a volte di giocare torre g4 e sacrificare la torre sul cavallo per dare quantomeno uno scacco perpetuo non funziona perché qui dopo donna e7 il nero torna in difesa e ho perso un po' l'attacco che avevo. Qui sposto la donna ovviamente cambiare le regine equivale ad abbandonare quindi devo assolutamente mantenerle sulla scacchiere dopo raggi 7 il nero sta cercando di ricordinare i suoi pezzi se la torre entra in gioco difficilmente l'attacco riuscirà ad andare a buon fine. Gioco con pedone f4 quindi voglio avanzare col pedone e poi a volte giocare f6 scacco con forchetta tra re e regina la torre però va in d8 quindi nero cerca il cambio dei pezzi io rifiuto torre f1 per supportare ancora una volta la spinta in f5 arriva torre f8 spingo lo stesso in f5 e dopo cavallo per e5 cerco di giocare con donna f2 con l'idea di intanto supportare a volte la spinta in f6 che però ora è controllata a sufficienza e quindi non mi porterà da nessuna parte. Però soprattutto di giocare torre 1 attaccare questo cavallo e poi andare a mangiarlo con donna g3 scacco quindi il nero deve stare attento il mio avversario gioca bene gioca con re h8 non ci sono più scacchi interessanti qua io cerco di attaccare il cavallo torre d5 abbiamo pochi secondi entrambi io qui ho 15 secondi gioco donna g3 e dopo torre per f5 la partita è proseguita 2 o 3 mosse poi io ho perso di tempo ma già qua ci possiamo fermare perché il mio attacco è completamente svanito il nero è riuscito a difendere con tutti i suoi pezzi il cavallo. Quindi qua semplicemente ha un cavallo e un pedone di più quindi alla fine nonostante la partita eccezionale che stavo giocando ho perso proprio per via di donna f5 che poi non è l'errore finale perché abbiamo visto che sono comunque tornato in partita però poi era molto più complesso cercare di vincere e nulla ho perso. Meno male che questa partita non ha influenzato il risultato finale del torneo sicuramente vincendo avrei ottenuto un sesto posto a pari punti con il quarto quindi sarei stato molto più felice però così facendo comunque vinto il titolo di maestro comunque campione italiano tra i maestri quindi sono soddisfatto del torneo. Ho riguadagnato ampiamente l'ielo che avevo perso il giorno prima e vi ho mostrato questa partita perché secondo me sia interessante a livello di gioco sia perché mostra come non ci si può rilassare veramente un secondo contro questi giocatori fortissimi che è un attimo che ti castigliano quindi complimenti a Nicolas che è stato lì in posizione inferiore ha aspettato il mio errore il mio errore è arrivato e poi mi ha punito. Noi ci vediamo al video di domani dove proseguiremo l'analisi del torneo di Verona ci mancano due partite.